Che DJ sei? Che DJ vorresti essere? Queste sono due domande fondamentali da porsi in qualsiasi fase tu sia nella tua carriera, della tua attività o del tuo divertimento qualunque sia la motivazione che ti spinge a essere un DJ Perché dico questo? Perché chiedersi quello che si è e quello che si vorrebbe essere è importante qualunque cosa si stia facendo ma nel nostro caso è importante anche perché te lo chiedono te lo chiedono gli amici che magari non sanno di preciso quello che fai te lo chiede chi ti potrebbe far lavorare e allora in questi casi è bene avere una risposta chiara, netta, precisa e che riesca ad essere compresa da tutti già porsi questa domanda è un modo importante per fare chiarezza per riuscire ad organizzarsi le idee ma te potrai dirmi ma sai io ho iniziato ora sto divertendo, sto imparando, non so niente ok, va bene però chiedersi che DJ vorresti essere è comunque una domanda da farsi perché quantomeno puoi avere un sogno, un obiettivo puoi avere dei riferimenti e allora dice faccio il DJ perché mi piace questo e vorrei fare così saperlo, interrogarsi è comunque un passaggio importante se invece sei uno che suona solo in camera sua per farsi una registrazione da sentirsi in macchina va bene lo stesso non c'è nessun problema questo è quello che gli inglesi chiamano i bedroom DJ che anzi molti l'hanno fatto per tanti anni prima di provare a suonare in pubblico va bene quindi sei un bedroom DJ sei uno che suona per ascoltarsi per mettere insieme i dischi però non vuole confrontarsi con dei pubblici in questo modo comunque puoi farti questa domanda e puoi chiederti se vuoi essere veramente quello oppure vorresti qualcosa di più se invece sei uno e lavora anche da 30 anni lo stesso puoi chiederti che DJ sei magari avrai risposto tantissime volte a questa domanda e se sei quello che vorresti essere se la risposta alle due domande coincide eccezionale perfetto continua così se invece non sei ancora quello che vorresti essere ok hai chiaro quello che sei hai chiaro quello che vorresti essere e inizi già da oggi a lavorare in quella direzione quindi l'esercizio di oggi è rispondi alla domanda che DJ sei rispondi alla domanda che DJ vorresti essere con una sola frase semplice chiara e precisa sono sicuro che già interrogandoti in questo modo riesci ad avere più chiaro quello che vuoi fare e riesci ad avere più chiaro anche quello che puoi fare già oggi